Giornata mondiale del risparmio, il messaggio del presidente Mattarella ai fondi europei, scrive il capo dello Stato, vengano usati per un progetto condiviso di crescita sostenibile e inclusiva. Sentiamo Nadia Zikoski, poi Francesco Di Mario. È indispensabile ristabilire un clima di fiducia. La giornata dedicata al risparmio ha per Mattarella l'occasione per riflettere sull'incertezza economica che la pandemia ha diffuso all'interno del tessuto sociale. Questa crisi profonda, scrive il capo dello Stato, richiede misure urgenti di intervento per salvaguardare il presente, ma soprattutto il futuro e le nuove razioni, che dovranno ritrovare proprio nel risparmio e la riflessione l'energia per ripartire in quelle risorse non impiegate dalle famiglie così come dalle imprese, proprio per la preoccupazione scatenata dal diffondersi del contagio, dalle condizioni di incertezza nelle quali il virus ha fatto precipitare il Paese. Sarà il risparmio, ossia adeguatamente utilizzato, Mattarella ne è convinto, a garantire la ripresa di investimenti e consumi una volta superata l'emergenza. Insiste il capo dello Stato su quanto i fondi messi a disposizione da Governo ed Europa rappresentino non soltanto uno scudo all'instabilità, ma anche un'occasione per costruire un progetto di crescita diverso, sostenibile e inclusivo, purché si investa su infrastrutture materiali e immateriali sulla base di un principio irrinunciabile, quello di contrastare le diseguaglianze. Il forte rimbalzo del PIL, dice il Ministro dell'Economia, testimonia la capacità di risposta dell'economia e la correttezza delle misure del Governo. l'entità dell'aumento del PIL.